eccoci, buonasera a tutti cominciamo la formazione di questa sera come sapete tutti sul listing di Pima Network si è conclusa il progetto in pre-sale ha raccolto tutto quello che doveva raccogliere nell'ultima fase di vendita quindi nella fase della diciamo della public sale una parte della pre-sale, quindi come sempre per acquistare il progetto in pre-sale bisogna diciamo stare nella sezione pre-sale una volta che il progetto si conclude, quindi la pre-sale si conclude il progetto va sul mercato quindi può essere acquistato e venduto da tutti e lo troviamo nella sezione new crypto quindi andiamo appunto per il listing sul progetto di Pima Network abbiamo acquistato l'ultimo prezzo che poi sarà quasi sicuramente il prezzo iniziale dal quale poi partirà domani perché il listing è domani 26 novembre 2024 è un token sulla rete principale di rete Arbitrum una layer 2 di Ethereum come dovreste già sapere tutti perché l'avevamo partecipato all'acquisto in pre-sale anche di questo andiamo come sempre sul progetto per vedere tutte le informazioni di cosa si tratta e soprattutto come acquistarlo e come venderlo nel nostro caso che abbiamo acquistato in pre-sale per chi invece deve acquistarlo come acquistarlo domani al listing e venderlo poi successivamente direttamente al listing allora andiamo sul progetto Pima Network ne avevamo già parlato durante la fase di pre-sale è un progetto non buono di più è uno di quelli che noi reputiamo ottimi progetti è stata nominata come uno dei progetti più promettenti del 2024 e quindi ci aspettiamo di conseguenza che anche il lancio possa essere come tale visto che comunque oggi abbiamo visto i primi accenni di un altcoin season che si sta avvicinando quindi insomma abbiamo direi tutte le carte positive per vedere un buon lancio domani brevemente Pima Network cos'è un'infrastruttura blockchain? sta rivoluzionando il modo in cui istituzioni finanziarie applicazioni web 3 e aziende fintech sfutano la potenza del risorso digitale della tecnologia blockchain quindi sempre più aziende integrano le criptovalute nei loro modelli aziendali quindi accettano o comunque utilizzano le criptovalute come metodo di pagamento e Chima offre una soluzione alle sfide alla mancanza appunto dei gateway fiat crypto integrati fornendo appunto uno scambio di valore diretto uno a uno tramite la sua API Chima elimina la necessità di entità centralizzate e rischiose come l'exchange supportando transazioni senza soluzione di continuità in qualsiasi valuta fiat, cripto o stablecoin quindi viene appunto per questo motivo principalmente consigliata diciamo i loro servizi vengono utilizzati da istituzioni finanziarie applicazioni web 3 proprio perché queste fanno sempre un sacco di fatica comunque hanno sempre diffidenza nei componenti dell'exchange crypto che comunque hanno pur essendo diciamo utilizzando dei modelli degli strumenti di sicurezza molto avanzati hanno comunque un grosso rischio ok quindi Chima Network risolve questo naturalmente nel modo decentralizzato evitando appunto a questi a questi enti di dover passare appunto per un exchange di prodotto centralizzato va bene detto ciò l'abbiamo acquistato appunto in pressele all'interno della community vipa 0,214 quindi ricordiamoci questo valore perché è fondamentale per capire a che valore andare a venderlo è un token con una supply totale di 210 milioni quindi non tantissimo una supply comunque limitata e domani dell'euro 14 ci sarà sul mercato abbiamo questi exchange gate max cocoin bitmart punk e swap in realtà anche uniswap sempre rete arbitrum gli ultimi quindi punk e swap e uniswap sono naturalmente degli exchange decentralizzati dove ci si può collegare senza doversi registrare con mail e password ma semplicemente collegando il proprio wallet come ad esempio il wallet metamask invece i primi 4 sono degli exchange centralizzati abbiamo lasciato il link per chi naturalmente si può acquistare su uno di questi cioè sarà presente su tutti ma naturalmente chi vuole acquistare ne sceglie uno in base alle sue preferenze o in base naturalmente se è già registrato o comunque eventualmente già dimestichiazza con uno di questi 4 exchange essendo un token rete arbitrum naturalmente ha il suo contratto questo è l'unico contratto ufficiale del token mi raccomando qualsiasi altro contratto non è Kima questo è poco ma sicuro quindi per non incappare in scam questo è l'unico contratto ufficiale che naturalmente ci serve quando dobbiamo andare ad acquistare il token su punk e swap o su uniswap rete arbitrum mi raccomando come sempre poi i canali social del progetto quindi il sito web del progetto stesso e i canali social ufficiali del progetto sono sempre presenti sotto lo lasciavo per ogni progetto quindi per chi volesse diciamo andare a informarsi maggiormente allora vediamo subito partiamo dal decentralizzato prima ricordo anche sempre la possibilità di lasciare il cuore al progetto dopo essersi registrati al sito di cripto del gruppo italiano molto importante dicevo che cominciamo la formazione vedendo prima la parte del decentralizzato quindi vediamo punk e swap come sapete punk e swap è l'exchange decentralizzato più utilizzato in generale noi lo utilizziamo sempre per tutti i token rete binance smartchain infatti punk e swap nasce proprio di questo però magari pochi di voi sanno che comunque punk e swap negli ultimi tempi ha integrato al suo interno oltre la rete di binance smartchain anche la rete di tier la rete di polygon e soprattutto anche la rete di arbitrum 1 quindi ci colleghiamo con il nostro metamask utilizzando la rete di arbitrum 1 io vi ho lasciato già il link se cliccate sopra e siete sicuri al 100% avete già la coppia Kima contro USDT naturalmente questo per chi deve vendere domani al listing quindi per chi ha acquistato in pre-sale e domani venderà per chi invece deve acquistare sarà al contrario sopra USDT e sotto Kima ok questa sarà la coppia di scambio ufficiale domani da che ora parte allora dalle ore 14 su gate mask coin bitmart quindi si centralizzati su punk e swap e uniswap come sempre parte un pochettino dopo perché devono inserire la liquidità quindi può essere che ci vogliono dei minuti non c'è un orario specifico preciso solitamente ma probabilmente sarà alle 14.10 giusto per darvi un'idea quindi per chi ha acquistato in pre-sale e vuole vendere sicuramente potrà vendere se lo preferisce per comodità vendere su punk e swap o uniswap non c'è una differenza tra i due vedremo magari domani mattina ci confronteremo in chat per capire dove magari è stata immessa più liquidità in ogni caso il prezzo sarà lo stesso sia su punk e swap che su uniswap sarà praticamente lo stesso potrebbe essere che differisca un pochettino e quindi possa essere magari un pochettino più alto su punk e swap e su uniswap rispetto a questi quattro exchange per quale motivo perché come sapete sulle exchange centralizzate quando un token parte quando parte il listing e io ad esempio faccio un esempio lo acquisto su gate magari a 0,8 e magari su kucoin sta un dollaro se io voglio vendere portarlo da gate a kucoin nelle prime 24 ore non lo posso fare cioè lo posso acquistare e vendere su gate ma non posso spostarlo nelle prime 24 ore su un altro exchange centralizzato ok dovrò se lo voglio vendere nelle prime 24 ore dovrò rivenderlo su gate ok quindi per questo motivo stesso discorso su punk e swap posso acquistarlo su punk e swap posso depositarlo su gate mes kucoin bitmart dal mio metamask ma non posso poi successivamente esempio se su punk e swap sta ad un prezzo più alto rispetto a questi prelevarlo da gate da mes da kucoin da bitmart e portarlo su metamask per rivenderlo su punk e swap ok questo non posso farlo nelle prime 24 ore dopo le prime 24 ore si può tranquillamente prelevare dall'exchange senza problemi quindi ripeto si può scambiare ma non si può prelevare il token da un exchange all'altro quindi fare fare diciamo arbitraggio ecco nelle prime 24 ore per questo motivo nelle prime 24 ore può essere che il prezzo sia un pochettino diverso sui vari exchange non sarebbe nulla di eclatante questa è la spiegazione allora dicevo su punk e swap facilissimo quindi per chi deve vendere chi ma sopra usdt sotto mi raccomando per chi deve vendere subito e può essere anche consigliato farlo perché sicuramente partirà diciamo abbastanza potente domani chi ma consiglio di utilizzare queste impostazioni quindi magari inserire uno slippage abbastanza alto magari su un 30 40 50 il 49% dovrebbe essere il massimo perché ad esempio già 50 non è consentito in modo tale da essere sicuri che poi l'operazione diciamo vada vada a buon fine detto ciò quindi si inserisce la quantità di chi ma che si vuole vendere sotto ti da usdt e poi fate lo scambio lo swap come sempre per capire il valore di chi ma diciamo di quanto sta valendo anche per in prospettiva di quanto l'abbiamo acquistato quindi l'abbiamo acquistato 0,214 io direi che almeno sopra un dollore 4 va venduto venderlo sotto è un po' uno spreco secondo me e per capire quanto varrà un chi ma in tempo reale basterà semplicemente scrivere 1 e sotto ti uscirà il controvalore naturalmente in questo momento esce 0 in caricamento perché non è ancora partito come dicevo domani dalle 14 e 10 tutti i token se qualcuno vi dice che può essere già acquistato può essere già venduto su panche suopo o su qualsiasi altro vi sta scammando perché questo è l'unico contratto ufficiale e se voi utilizzate il contratto ufficiale la liquidità non è stata messa verrà messa domani circa verso le 14 e 10 dal team del progetto di Kima quindi attenzione ai scam lo inserite vedete che vi esce Kima che è quello che vi ho fatto uscire io in automatico se cliccate sul link va bene questo è perpan case swap invece per chi vuole utilizzare un exchange centralizzato è consigliabile è consigliabile utilizzare cioè consigliabile uno dovete utilizzare uno di questi quattro quale tra i quattro utilizzare in base alle vostre preferenze stasera vediamo rapidamente come fare sia su gate che su mask quindi per chi deve vendere cosa deve fare andare su asset questo su gate andare su fastmanal su deposit onchain e andare a depositare i Kima perché se li devo vendere io che li ho acquistati in pre-stage li avrò sul mio wallet li devo depositare su un exchange quindi scelgo ad esempio gate e seleziono Kima perché voglio depositare Kima mi dice la network di network ce n'è solo una e quindi non ce n'è anche da scegliere che come dicevo la rete è arbitrum 1 mi dice l'indirizzo quindi dal mio metamask li invio a questo indirizzo i Kima ok nel giro di massimo minuto i Kima arrivano io vado su trade vado su spot e seleziono Kima contro USDT quindi al posto di bitcoin contro USDT seleziono Kima che mi dice appunto che la quotazione parte domani alle 14 ore italiana qui troveremo naturalmente l'order book con tutti gli ordini se voglio appunto vendere starò nella sezione sell quindi vendere e se voglio vendere a mercato quindi vendere il 100% dei Kima o comunque il 50% quello che è al valore in cui si trova nel momento in cui lo sto visualizzando inserisco quanto voglio vendere non so se il 50 il 10 il 20 il 30 di Kima che ho e faccio sell subito e te li vende a mercato se invece voglio fare una cosa più calcolata cosa consigliata secondo me perché il mio consiglio è sempre quello o domani dalle 14 appunto quando viene data la possibilità quando riceviamo i nostri Kima sul nostro metamask vendiamo subito appena ce li abbiamo cercando appunto di vendere al prezzo più alto quindi a mercato direttamente non so o su Pankay Swap o su Uniswap o magari depositandolo su uno di questi 4 exchange se vediamo naturalmente che su questi exchange il prezzo è più alto oppure semplicemente aspettiamo con calma non c'è fretta e con calma spostiamo i nostri Kima su Gate o su Mask o su Kucoin quello che preferite e andiamo a piazzare degli ordini di vendita quindi non so il 25% o il 50% lo vendo a sappiamo che l'abbiamo acquistato 0,214 non lo so a un dollaro e 8 esempio un dollaro e 6 facciamo finta e un altro lo vendo a un dollaro e 8 un altro 25 a 2 dollari e così via quindi inserisco diversi ordini di vendita a salire quindi qua sopra inserisco il prezzo al quale voglio inserire l'ordine tipo non so un dollaro e 6 primo ordine sto sparando dei numeri a casa naturalmente ognuno inserisce il valore che preferisce qui inserisco la quantità quindi non so il 25 quello che è di Kima faccio sell il mio ordine andrà qua sotto e nel momento in cui se il valore di Kima raggiungerà un dollaro e 6 l'ordine verrà evaso quindi io mi verranno tolti Kima e riceverò gli USDT di corrispettivo di controvalore stesso discorso per chi deve vendere per chi deve vendere mi raccomando fondamentale non affrettarsi ad acquistare il token alle ore 14 sbagliatissimo chi deve vendere deve fare con molta calma e cercare di andare ad acquistare chi deve acquistare naturalmente sto parlando scusate chi deve acquistare al listing farlo soprattutto dopo che chi ha acquistato in presale sarà uscito perché non avrebbe senso il contrario cioè non avrebbe senso che io acquisto e poi gli altri mi dampano in faccia ha senso che faccio uscire chi ha acquistato quindi chi deve uscire dal progetto esca chi voglia uscire subito e quindi far scendere di conseguenza il valore del token verso le 14 e 15 14 e 30 soprattutto ci sarà un'altra discesa perché ci saranno altre persone che hanno acquistato che venderanno e dopo le 14 e 30 quando il valore del token sarà sceso quindi chi deve uscire è uscito andare ad acquistarlo sempre mi raccomando a step è essenziale quindi inserisco un primo ordine d'acquisto non lo so so che il valore di partenza è 0,2 posso inserire non so un primo ordine a 0,6 un secondo ordine a 0,8 e così via in modo tale da cercare di prenderlo al valore più basso ok quindi magari parto non so da un dollaro a scendere in giù ok con l'obiettivo poi successivamente di una volta acquistati naturalmente andare su sell e rivenderli o a mercato o limit scegliete voi quindi stesso discorso se voglio acquistare inserisco a che prezzo li voglio acquistare quindi non so 0,98 esempio inserisco quanti USDT voglio utilizzare per l'acquisto e così via non l'ho detto prima ma do per scontato chi deve acquistare non deve depositare su gate i kima ma che cosa deve depositare deve depositare gli USDT perché se no con cosa li acquista USDT come sapete tutti è una stable coin gli USDT dove si possono prendere sul vostro exchange di fiducia che può essere Binance scritto.com Qcoin HTX quello che preferite basta che selezionate la rete corretta quindi quando li inviate da una parte all'altra dovete selezionare la stessa rete quelle più economiche come sapete sono Binance Arbitrum Polygon e così via o Solana o Tron va bene questo per gate stesso discorso per MESC quindi per chi deve depositare va su portfoglio fa deposita seleziona deposita e seleziona la criptovaluta da depositare chi deve acquistare deposita USDT chi deve vendere deposita Kima anche qui non potete sbagliare perché c'è un'unica rete che è la più veloce cliccate per generare l'indirizzo e vi uscirà fuori l'indirizzo da Metamask dovete inviarle le costi di indirizzo una volta che sono arrivati date su spot su spot appunto sulla vendita diciamo a listing e selezionate la coppia quindi in questo caso appunto Kima contro USDT vediamo se ci esce già sì c'è già naturalmente non è ancora partita perché come dico ripeto lo dico tante volte perché vedrete che ce ne saranno 100.000 di scammer che approfitteranno di chi non è preparato e chi magari non segue le formazioni e quindi ne approfitta appunto di queste persone per per ah non mi carica la Kima contro USDT questo è strano vuol dire che non non è ancora visibile vale domani mattina sicuramente lo sarò deve essere un un bug di di mesc comunque Kima dovete selezione Kima naturalmente adesso vi esce Kima contro USDT vedo che schiacciandola non non si aggiorna dovrebbe naturalmente aggiornarsi con il come usciva diciamo su gate sicuramente risolveranno appunto questa cosa prima del del listing di domani una volta che siete qui naturalmente per stesso discorso per acquistare state su compra per vendere state su vendi a mercato vendete subito limit ecco si è aggiornato finalmente limit invece inserite di ordine di vendita vedete che mancano domani alle 14 ore italiana mancano 16 ore 40 minuti mercato vendete subito limit inserite ordine di vendita sopra inserite il prezzo al quale volete vendere sotto la quantità di Kima che volete vendere stesso discorso per chi deve acquistare sopra il prezzo al quale volete acquistare sotto il prezzo la quantità di USDT che volete utilizzare per l'acquisto mi raccomando quando fate al limit di fare sempre più ordini non soltanto uno per chi deve acquistare per chi deve vendere vendete a step a salire del prezzo per chi deve acquistare allo scendere del prezzo è fondamentale questo tipo di ragionamento ripeto tenete in considerazione per Kima fate un grosso affare ma domani dopo le 14.30 quando chi deve uscire dal progetto esce non prima perché se no naturalmente date diciamo manforte a chi poi deve vendere per chi invece deve vendere stesso ragionamento domani dalle 14.15 vendete subito con l'obiettivo magari visto che Kima ha un ottimo progetto di riacquistarlo dopo quando scende ok sicuramente alle 14.30 scenderà di più rispetto che alle 14.15 e quindi questo ci agevola perché ad esempio non so posseggo 1000 Kima li vendo alle 14.15 ad un prezzo sparo a caso 1.4$ e me li vado a riacquistare a 1$ esempio sparo a caso alle 14.35 esempio e di conseguenza utilizzando gli stessi fondi io mi acquisto più Kima poi Kima quando ricomincerà di nuovo a salire e mi tocca di nuovo 1.4$ 1.6$ 2.00$ quello che è me li vado a rivendere quindi entriamo nell'ottica di quello che appunto succederà sulla base di quello delle informazioni che già possediamo adesso ci confrontiamo chiudiamo la formazione ci confrontiamo se sono dubbi domande vediamo insieme domande